Viaggiavo molto di più prima di fermarmi a Napoli, poi qui ho trovato Brunella, questa città molto vivace, molto sorprendente e una spontaneità, una cosa di vivere anche il momento al giorno al giorno che questa città corrisponde alla mia anima e viceversa. Mi piace anche rimanere un po' a casa e concentrarsi su cose un po' più intime, anche un bel piatto di pasta con pomodori di stagione locale, fatti bene, ci fa felici. Ho iniziato a dipingere a Parigi e quando ho iniziato a imparare sentivo sempre questi pittori che ti parlavano di importante la luce, importante la luce e che mi sembrava una cosa un po' esagerata. Poi quando arrivi in Italia in generale, poi a Napoli, soprattutto capisci come la luce ti può fare rendere qualunque soggetto un soggetto in sé e dunque al fine è la luce che crea le cose. Grazie.